Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video news su Call of Duty Infinite Warfare, nuovo video veramente molto simpatico e divertente perché il profilo ufficiale di Playstation UK ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video molto particolare per pubblicizzare non soltanto la PS4 Pro ma anche Call of Duty Infinite Warfare, infatti nel video che potrete andare a vedere con il link che trovate in descrizione viene sponsorizzato il nuovo titolo dell'Infinity World, appunto Call of Duty Infinite Warfare in abbinamento alla PS4 versione Pro, il tutto in stile anni 80, infatti vedremo un ragazzo vestito con gli abiti dell'epoca in una delle modalità più apprezzate all'interno del gioco e stiamo parlando di Zombies Mappa, Zombies in Spaceland il tutto per presentare ovviamente la nuova PS4 Pro e questa attesa modalità di Call of Duty Infinite Warfare di cui avremo molte più informazioni lunedì 31 ottobre, quindi rimanete aggiornati sicuramente uno sport di cui parlare perché è veramente particolare lo stile che è stato utilizzato dalla Sony per pubblicizzare appunto la PS4 Pro insieme a Call of Duty Infinite Warfare con questo appunto spot commerciale stile anni 80 andatevelo a vedere con il link che trovate qui sotto in descrizione e poi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale e ci vediamo